Musica Buongiorno a tutti amici e amici di Volonvrite, siamo qui ai dialoghi sulla salute, in particolare la pillola di oggi parlava di educare i giovani per costruire comunità. Siamo qui con Martina e con Simone, Martina per l'associazione Libera e Simone per l'associazione ACMOS. Quindi Martina se vuoi spiegarci brevemente qual è la mission di Libera e soprattutto ti chiedo qual è stato il riscontro, quindi la risposta della cittadinanza torinese, quindi dei giovani a quello che è il messaggio di Libera. Libera è una rete di associazioni le più diverse, una rete nazionale che ha come mission quella di fare antimafia sociale e quindi impegnarsi in vari ambiti per creare un territorio che sia il più possibile non fertile allo sviluppo della mafia. In particolare i progetti attivi sono sia in ambito educativo con progetti nelle scuole o gite sui beni confiscati, sia con i campi di volontariato, i campi estivi nei beni confiscati dalla mafia e riutilizzati socialmente. D'altra parte un altro ambito di azione di Libera è quello della memoria con la giornata del 21 marzo e quello della giustizia con l'accompagnamento ai familiari delle vittime di mafia, ai testimoni di giustizia e con il progetto Anduma a Munì che segue i ragazzi messi alla prova. Qual è stata la risposta della cittadinanza? Da una parte riscontriamo che c'è molta volontà da parte dei giovani di interessarsi al tema e di impegnarsi attivamente perché ogni anno nascono nuovi presidi giovanili, quindi a scuola e all'università, di ragazzi che vogliono formarsi sul tema e impegnarsi così come i campi di estate liberi sono sempre molto affollati, talvolta non c'è neanche spazio per tutti, alcuni rimangono fuori. D'altra parte un sondaggio che è stato condotto quest'anno che si chiama Libera Idee in tutte le regioni d'Italia sulla percezione del fenomeno mafioso nel proprio territorio ha invece portato il risultato per cui in Piemonte la maggior parte di chi ha risposto al sondaggio sente la mafia come un fenomeno che sì è un problema ma non mi riguarda personalmente, non mi riguarda quotidianamente. Questo ci fa dire che il lavoro da fare è ancora molto sulla sensibilizzazione rispetto al fenomeno mafioso. Grazie Martino. Per te Simone invece dell'associazione ACMOS chiederei brevemente di spiegarci di cosa si occupa ACMOS e quanto secondo te appunto ci sia motivazione da parte dei giovani al giorno d'oggi nel combattere ciò che non va bene nella società di cui fanno parte? Allora grazie sono Simone appunto per ACMOS spiegare ACMOS è molto complesso si può dire che però nasce dalla voglia di giovani che arrivano vent'anni fa a fondare questa associazione proprio per il senso di impotenza che li anima in una società che non riescono a capire come poter cambiare. Le parole d'ordine sono quindi educazione alla cittadinanza attiva, promozione del protagonismo democratico è un qualcosa che rischia di apparire estremamente generico e ampio si concretizza in alcune pratiche che sono quelle dell'animazione d'ambiente dello sperimentare la vita in comunità dell'essere presente con percorsi pedagogici nelle scuole e non solo. L'obiettivo quindi è quello di riuscire a far sì che questo contenitore che è la democrazia, le istituzioni democratiche di cui ci siamo trovati a poter disporre da un certo punto in avanti della storia non si svuoti del contenuto democratico che va costantemente rifornito con una cultura democratica che deve essere mantenuta e veicolata. Noi come animatori proviamo a fare questo, sperimentando la vita comunitaria e quindi dimostrando che poi esiste una bellezza nel vivere insieme, nell'affrontare insieme certi problemi poiché affrontare problemi da soli è l'avarizia, affrontarli insieme è la politica. Cercare in un contesto dove la sensazione di sconforto, di disagio, di impotenza e di sfiducia anche nella politica cercare in questo contesto di ricordarci che la qualità della politica è quella che ne viene dalle persone che la abitano e la vivono. Di conseguenza questo è un po' il lavoro che proviamo a fare in forme disparate anche con un'attenzione verso la tematica europea e quindi col progetto Meridiano d'Europa che portiamo avanti in varie scuole di tutta Italia e con un percorso pedagogico di vari incontri per riflettere di cittadinanza europea e poi arrivare alla fine ad un viaggio in una capitale europea dove partecipano ogni anno ormai da 5 anni oltre 250 studenti fino a 300 proprio per riflettere in percorsi continuativi, in percorsi che non vogliono essere unicamente singolo incontro ma che partono dalla cura della persona e di un dialogo che non può concludersi in poche ore o in una breve diretta Instagram o Facebook. Grazie mille Martina e Simone per il loro contributo e ci vediamo alla prossima. Ciao!